Stavre, ok? Si Tutto chiuso la tante? Sì, sì Ora vado Ora vado Scusa Vado Ora vado Voi vado Stai facendo la testa Non si muove A dire ci sono qualcuno che dice Anche quello di me dentro se ne fregano E tu l'hai bisogno? Ieri che ha telefonato e tu non l'hai guardato? non l'ho guardato, per favore guida per piacere ci dici che si non vai trecchi un beccant pescat ok? ok? si chiude qua solo? il display si chiude solo a dire qualcuno che aiuta? niente, tranquilli fresci come rose, no? non è pieno ma per farlo pieno non tocco per funzionare e che fa? c'è un regalo 10 euro? c'è metterci 10 euro? tutto è finito un fetish l'amore Grazie a tutti.